È il terzo attentato in dieci giorni, prima un autolavaggio, poi una tabaccheria, ora un bar gelateria incendiato lungo il centralissimo Corso Garibaldi, a pochi passi dalla prefettura. Cresce l'allarme a Benevento per il susseguirsi delle intimidazioni e danni dei titolari di attività commerciali. L'ultima è stata messa a segno la scorsa notte, quando i malviventi hanno scatenato le fiamme nel locale di una 43enne. L'incendio è divampato all'altezza della sala cinesca di un ingresso laterale e si è poi propagato all'interno. Ingenti i danni, ha annerito anche il balcone di un appartamento al primo piano dello stabile che ospita il bar. Erano le tre e mezza quando gli agenti della volante, transitando nella zona, si sono accorti di ciò che stava accadendo. Hanno portato in salvo il proprietario dell'abitazione, hanno chiesto l'intervento dei vigili del fuoco che hanno domato il rogo. La scientifica ha provveduto ai rilievi, la mobile ha avviato le indagini per risalire agli autori del gesto. Nessun dubbio sulla natura dolosa, confermata dal rinvenimento di tracce del liquido infiammabile adoperato. Acquisite le immagini di alcune telecamere installate nell'area, che potrebbero fornire elementi utili agli investigatori. Resta la preoccupazione per un episodio che allunga la lista degli avvertimenti registrati nel capoluogo Sannita. Segnali indiscutibili dell'attivismo di una criminalità che, nonostante i blitz e gli arresti, continua a far sentire il suo peso su un'economia già costretta a fare i conti con la crisi.